Malattia di Graves, trattamento naturale per i sintomi dell'ipertiroidismo. La malattia di Graves è stata identificata per la prima volta dal medico irlandese Robert Graves circa 150 anni fa. I sintomi della malattia di Graves possono variare molto a seconda dell'individuo e della gravità del disturbo. Poiché la ghiandola tiroidea ha ruoli così diffusi e importanti nel corpo, i sintomi della malattia di Graves sono generalmente molto evidenti e possono influenzare il benessere generale e la salute in molti modi diversi. La malattia di Graves è una malattia autoimmune che colpisce l'intera ghiandola tiroidea e deriva dalla sovrapproduzione di ormoni tiroidei, nota come tireotossicosi. Nel mondo medico, una malattia autoimmune è considerata una malattia cronica, non ha una cura permanente e deve essere controllata nel tempo attraverso vari cambiamenti nello stile di vita e talvolta anche farmaci. L'obiettivo principale del controllo della malattia di Graves è fermare la sovrapproduzione di ormoni tiroidei, che aiuta a ridurre i sintomi di Graves, inclusi disturbi del sonno, perdita di peso, gonfiore degli occhi, noto come orbitopatia di Graves, e cambiamenti di personalità. Può essere difficile diagnosticare e trattare la malattia di Graves perché molte persone che hanno sintomi di attività tiroidea normale manifestano anche sintomi che possono essere confusi con altri disturbi. Quindi è spesso una strada stressante per arrivare a una diagnosi della malattia di Graves, ma fortunatamente molte persone sono in grado di aiutare a controllare bene il disturbo una volta apportate alcune modifiche alla loro dieta, ai livelli di stress e allo stile di vita. Come si sviluppa la malattia di Graves? Normalmente, l'ormone stimolante della tiroide TSH viene rilasciato dalla ghiandola pituitaria nel cervello e di solito determina la quantità di ormoni prodotti dalla tiroide. Ma le persone con malattia di Graves sperimentano un'interruzione nella normale comunicazione tra la ghiandola pituitaria e la ghiandola tiroidea, con conseguente rilascio di anticorpi anormali che imitano il TSH e quindi fanno circolare troppo ormone tiroideo nel flusso sanguigno. Questi anticorpi sono chiamati immunoglobuline stimolanti della tiroide TSI e anticorpi del recettore della tireotropina TR-HAB. Le cellule TSI hanno un effetto simile al TSH, di cui abbiamo bisogno in quantità adeguate per aiutare la normale funzione tiroidea. Ma gli anticorpi TSI fanno sì che la ghiandola tiroidea produca ormoni tiroidei in eccesso al di sopra e al di là di ciò che è necessario e salutare. Poiché la tiroide scambia questi anticorpi per il TSH, possono ignorare i normali segnali inviati dalla ghiandola pituitaria e quindi causare ipertiroidismo. Con l'aumento dei livelli di TSI e TR-HAB, l'infiammazione aumenta, il che indica che il sistema immunitario sta lavorando in modo eccessivo e attacca accidentalmente il tessuto sano del corpo. Un ciclo dannoso può svilupparsi nelle persone con malattia di Graves perché più il sistema immunitario diventa attivo, più il tessuto corporeo viene danneggiato e quindi vengono rilasciati più linfociti T e autoanticorpi attivati. Trattamento naturale per la malattia di Graves. 1. Gestisci i livelli di stress. Diversi studi, che coinvolgono sia l'uomo che gli animali, mostrano che lo stress può innescare reazioni autoimmuni e peggiorare l'infiammazione. Questo è probabilmente il motivo per cui una percentuale così alta di pazienti con malattia di Graves riferisce di aver subito traumi o stress cronico prima di sviluppare la malattia. La ricerca dimostra che lo stress provoca cambiamenti sia fisici che psicologici, che influiscono sul funzionamento del sistema immunitario, causando alterazioni neuroendocrine che possono portare a malattie autoimmuni e danni ai tessuti. Lo stress può aumentare i livelli di cortisolo e adrenalina, che disturbano la funzione dei neurotrasmettitori e peggiorano i sintomi della malattia della tiroide. Per evitare che lo stress peggiori la malattia di Graves, costruisci pratiche di riduzione dello stress nella tua giornata, inclusi antistress naturali come esercizio, meditazione, preghiera, trascorrere del tempo nella natura, usare oli essenziali, massoterapia, agopuntura o volontariato per una buona causa. 2. Segui una dieta antinfiammatoria. Ridurre l'infiammazione attraverso una dieta sana è uno dei modi migliori per migliorare la funzione immunitaria, creare un ambiente intestinale sano e gestire i sintomi autoimmuni. L'infiammazione può essere in parte ricondotta a un microbiota intestinale malsano causato da carenze nutrizionali, allergie o sensibilità alimentari, che aumentano tutte l'attività autoimmune. Alcuni dei modi in cui la tua dieta potrebbe innescare reazioni autoimmuni includono il consumo di allergeni comuni come glutine e latticini, che il sistema immunitario può effettivamente registrare come una minaccia quando non vengono digeriti correttamente. I allergeni possono contribuire alla sindrome dell'intestino permeabile, in cui piccole particelle fuoriescono nel flusso sanguigno attraverso minuscole aperture nel rivestimento dell'intestino, innescando l'autoimmunità. Una dieta a tutto tondo, ricca di cibi antinfiammatori e priva di sovraccarico di tossine, aiuta a risolvere gli squilibri batterici nell'intestino che peggiorano i sintomi. Concentrati sulla limitazione o sull'evitamento degli alimenti in grado di aggravare i disturbi autoimmuni, tra cui 1. Cibi da mangiare con una dieta per ipertiroidismo. Quando si tratta di vedere miglioramenti nella funzione tiroidea, il miglior punto di partenza è migliorare la dieta con questi alimenti utili. Cibi integrali In generale, desideri che la tua dieta sia composta da cibi curativi integrali come verdure fresche, frutta e proteine animali al pascolo, piuttosto che da cibi trasformati. Succhi verdi I succhi verdi freschi di verdure ricche di nutrienti come cavoli, spinaci e spirulina possono aiutare a fornire nutrienti vitali. Erbe antinfiammatorie Molte erbe come basilico, rosmarino, prezzemolo e origano possono essere antinfiammatorie e aiutare a migliorare la funzione tiroidea. Brodo di ossa Il brodo di ossa supporta la disintossicazione e aiuta nella guarigione dei problemi di permeabilità intestinale che possono peggiorare l'ipertiroidismo. Grassi sani inclusi gli omega-3 riducono l'infiammazione e aiutano con le funzioni dei neurotrasmettitori. 2. Cibi da evitare Cibi ricchi di iodio Gli alimenti ricchi di iodio come alghe, dulse e altri tipi di alghe dovrebbero essere evitati. È anche comunemente raccomandato evitare altre fonti di iodio come sale iodato, frutti di mare, multivitaminici che includono iodio, così come molti sciroppi per la tosse convenzionali. Latticini convenzionali Le persone con problemi alla tiroide possono trarre beneficio da una dieta priva di caseina A1, poiché questa proteina presente nei latticini è stata collegata a una maggiore infiammazione della ghiandola tiroidea e del tratto digestivo. Glutine Una dieta priva di glutine può essere utile per le persone con problemi alla tiroide. La ricerca ha dimostrato che una dieta priva di glutine può aiutare le malattie autoimmuni della tiroide. Aromi o coloranti artificiali possono influenzare negativamente la funzione tiroidea, quindi è meglio evitarli. Zucchero Ormai probabilmente sai che lo zucchero fa male. Sopprime la funzione immunitaria e contribuisce alle malattie autoimmuni. Alimenti confezionati e trasformati, questi prodotti sono stati collegati a una maggiore permeabilità intestinale, un intestino permeabile, e all'insorgenza di malattie autoimmuni. La malattia di Graves è una malattia autoimmune. In genere è una buona idea eliminare eventuali allergeni alimentari sospetti, come latticini, glutine, soia, mais, conservanti e additivi alimentari chimici, poiché un'allergia alimentare può contribuire a problemi alla tiroide. Potresti prendere in considerazione l'idea di sottoporti a un test per le allergie alimentari, se non l'hai già fatto. L-carnitina 1.000 mg 2 a 4 volte al giorno La ricerca dimostra che la L-carnitina può aiutare l'ipertiroidismo in alcuni casi. La L-carnitina è un derivato dell'aminoacido lisina. Si ritiene che aiuti a ridurre i sintomi dell'ipertiroide diminuendo l'attività tiroidea. Melissa 2 ml 3 volte al giorno La melissa, melissa officinalis, è un'erba perenne appartenente alla famiglia della menta. L'estratto di melissa è una forma di trattamento che alcuni professionisti della salute naturale usano quando cercano di regolare una tiroide iperattiva. La ricerca suggerisce che l'estratto di melissa può impedire ai componenti che attivano eccessivamente la tiroide di legarsi al recettore del TSH, in particolare nei pazienti con malattia di Graves. La melissa può essere assunta come estratto. Può anche essere usato sotto forma di tè per aiutare a normalizzare una tiroide iperattiva. Per preparare una tisana alla melissa, metti in infusione due cucchiai di melissa in una tazza di acqua bollente per quattro minuti, filtra la e lasciala raffreddare prima di consumarla. Grassi sani inclusi gli omega-3 come olio di pesce selvatico, riducono l'infiammazione e aiutano con le funzioni dei neurotrasmettitori. 3. Fai un po' di esercizio L'esercizio fisico è un ottimo modo per controllare lo stress e ridurre l'infiammazione, purché sia divertente e non comporti sovrallenamento, che potrebbe renderti ancora più irritabile. Fai una sorta di esercizio quotidiano che ti faccia sentire più felice, meno ansioso e, si spera, ti aiuti a dormire. Gli esercizi calmanti che possono funzionare bene includono danza, yoga, ciclismo o nuoto. Ascoltare la musica mentre ci si allena è un altro ottimo modo per entrare nella zona e sentirsi più rilassati in seguito. Un altro motivo per seguire una dieta ricca di sostanze nutritive e fare esercizio è aiutare a proteggere le ossa, poiché avere un disturbo della tiroide interferisce già con la capacità di mantenere la forza ossea. Avere livelli molto alti di ormone tiroideo interferisce con la normale capacità del tuo corpo di incorporare calcio o altri minerali nelle ossa. Ciò significa che devi fare tutto il possibile per ridurre la perdita ossea in altri modi. L'allenamento della forza, incluso fare esercizi a corpo libero a casa, aiuta a mantenere le ossa forti con l'età. 4. Smetti di fumare. È stato scoperto che il fumo di sigaretta e l'esposizione al tabacco e ad altre droghe ricreative sono un potenziale fattore scatenante per malattie autoimmuni, inclusa la malattia di Graves. Non è esattamente chiaro come le sigarette possano peggiorare il morbo di Graves, ma è molto probabile che l'elevata quantità di tossine presenti nelle sigarette e in altri farmaci aumenti l'infiammazione, danneggi le cellule e i tessuti sani e quindi attivi il sistema immunitario per rilasciare più cellule T combattenti. 5. Minore esposizione alle tossine ambientali. La maggior parte di noi entra in contatto con varie tossine chimiche o ambientali più volte ogni singolo giorno. Ci sono oltre 80.000 sostanze chimiche e tossine utilizzate legalmente ogni anno negli Stati Uniti in Comuni Prodotti per la Casa o di Bellezza, colture spruzzate chimicamente, farmaci da prescrizione, pillole anticoncezionali e antibiotici. Questi possono finire per accumularsi nella rete idrica e altrove, facendosi strada nelle nostre case e nei nostri corpi. Consiglio di acquistare il più possibile prodotti biologici, di utilizzare prodotti naturali per la casa, compresi gli oli essenziali, di evitare farmaci non necessari per quanto possibile e di bere acqua di alta qualità che è stata filtrata per eliminare cloro e fluoro. 6. Trattare la sensibilità degli occhi e della pelle. Se sviluppi complicazioni di Graves negli occhi o sulla pelle, ci sono alcuni semplici rimedi che puoi provare a casa per alleviare l'infiammazione e il dolore. Una particolare complicazione che può verificarsi con questa malattia è l'oftalmopatia di Graves, nota anche come orbitopatia di Graves, che provoca il rigonfiamento degli occhi e può causare problemi alla vista. Può anche causare occhi secchi e gonfi, a volte con una sensazione di granulosità. Prova a usare un impacco freddo premuto contro gli occhi per mantenerli idratati, oltre ad applicare colliri lubrificanti. Inoltre, indossa sempre gli occhiali da sole quando sei all'aperto, poiché gli occhi sensibili sono più inclini ai danni dei raggi ultravioletti. Se i tuoi occhi si gonfiano durante la notte, prova ad alzare la testa mentre dormi per evitare che sangue e liquidi si accumulino intorno al tuo viso. Se Graves colpisce la tua pelle, puoi usare oli essenziali lenitivi combinati con olio di cocco per combattere prurito, gonfiore e arrossamento. Gli oli essenziali delicati e antinfiammatori includono lavanda, incenso, rosa e olio di tè a tre. Non perdere gli altri episodi di Antica Medicina solo su Antica Nutrizione.